Questi racconti che si scrivono sempre di più, Paolo, secondo te perché? Perché è più facile scrivere un racconto che scrivere un romanzo? È questa la verità? Secondo me no, c'è un'illusione nel fatto che sia facile scrivere un racconto. Diciamo intanto che ci sono scrittori di racconti che magari non scriveranno mai neanche un romanzo, prima nel pre-partita, diciamo così, si parlava di Raymond Carver, ne parlava Carlo D'Amicis e naturalmente Carlo mi pare di ricordare che Carver non ha mai scritto un romanzo ma solo dei racconti. Quindi ci sono degli scrittori che la loro cifra è quella del racconto e poi ci sono degli scrittori la cui cifra è quella del romanzo e scrivono malvolentieri i racconti. E per loro, per esempio, per quelli che amano scrivere romanzi, il racconto può essere una vera tortura. C'è un esempio di uno scrittore americano che si chiama James L. Roy e che è stato costretto a scrivere un racconto per un'antologia e gliel'ha in qualche modo imposto il suo editor perché questo editor stava riunendo degli autori in un'antologia e quindi ha inserito dentro anche lui e gli ha detto devi scrivere un racconto. E questo dice mamma mia che fatica e ha scritto addirittura un piccolo saggio, un breve saggio su come si scrive un racconto perché lui non gli veniva naturale scrivere un racconto. E quindi non è vero che è facile scrivere racconti, è proprio difficile. I grandi scrittori di racconti, secondo me, io questa idea ce l'ho da tanti anni, non dico che siano migliori dei grandi scrittori di romanzi, ma sicuramente a me come lettore mi possono dare un piacere fatto di illuminazioni superiori a quelle che trovo all'interno della scrittura romanzesca quando magari passo giorni, giorni, giorni a leggere un romanzo, giorni, notti e spesso leggo un romanzo nell'attesa che avvenga qualcosa che mi illumini e invece il racconto per sua natura, quando è bello, quasi di qualunque argomento tratti porta con sé questa idea che ti dica qualcosa, una cosa decisiva sul mondo e te la dica subito. Per me, in certi momenti, ci sono stati dei racconti che mi hanno veramente rivelato il mondo. Ora, molti dei racconti che io leggo, fatti da esordienti, ma anche fatti da scrittori professionisti, invece non sono tutti così, ovviamente. E quindi fare un buon racconto, fare un bel racconto, non è per niente più facile di scrivere un romanzo. Ma attenzione, volevo dire anche un'altra cosa, che il racconto non ti dà scampo a te come scrittore perché mentre nel romanzo tu puoi un po', come dire, fare delle giravolte, mettere delle digressioni lunghe, far vedere che sai cose di filosofia, che hai dei pensieri importanti di teologia, puoi parlare di sociologia, puoi metterci dentro un sacco di roba in Ia, in attesa che arrivi qualcosa di decente da dire e fare il piccolo filosofo, il piccolo poeta, no? E a portare avanti i romanzi, certe volte sono fatti anche un po' così. Il racconto è uno che ti guarda, a te che scrivi, e mentre scrivi ti fa e beh, e allora? Che vuoi dire? Che stai a dire? E la tu puoi dire, no, perché nell'epoca in cui si svolgevano questi fatti la Spagna aveva occupato buona parte del territorio del regno di Napoli. e il racconto fa, ok, va bene, e allora? Al tempo si stava sviluppando la filosofia, boh, aragonese, non esiste ovviamente, e vai su internet, copri su Wikipedia e inventi qualcosa, no? Farmacia letteraria, un podcast della scuola di scrittura Genius. Se avete una domanda, mandate un vocale 351-877-9461 Radio Genius Se ti piace, metti mi piace